Continuiamo la nostra chiacchierata con il presidente di Puglia Sound, Cesare Veronico. Prima di farlo però io devo restituire la linea alla TV, per cui ringrazio per la legge di Telebari Federico Semplice. Noi continuiamo su Radio Bari, 88.8 www.radiobari.net. Abbiamo parlato del presente, di quello che è stato l'immediato imminente passato, visto che è terminato soltanto due giorni fa il Medimex edizione 2017. Si lavora già e si pensa già all'anno prossimo? Sì, io dico l'anno prossimo, poi magari ci sarà qualche anticipazione. Beh, Puglia Sound, per iniziare, io spero pubblichi il bando, dico spero perché adesso ci sarà un'inevitabile fase di qualche giorno di rilassamento a partire da me. Te lo meriti tutto, diciamo. Noi vogliamo pubblicare il bando Records. Il bando Records è quello che sostiene i CD, i dischi, insomma qualunque mezzo di strumento dei musicisti pugliesi e che rispetto a passato abbiamo anche rimodulato perché daremo il 50% del finanziamento ai gruppi d'esordio. Questo rientra nella linea Young, è quella con la quale noi diamo uno sguardo particolare ai giovani musicisti perché riteniamo che se tu arrivi al terzo o quarto disco e hai bisogno ancora del sostegno di Puglia Sound c'è qualche problema. E abbiamo anche nell'ambito del Medimex, dato spazio ai più giovani, tanto che abbiamo sostenuto due contest, Rec'n'Play è un contest che si è tenuto al Royal e poi quello che si è tenuto della Gazzetta su Piazza Ferrarese. E questa linea perbade anche export, cioè noi sosteniamo in particolar modo i musicisti giovani che intercettano anche solo i due concerti all'estero. Quindi fa parte del progetto più in generale di Puglia Sound. Il progetto Medimex invece non sarà concentrato soltanto in questi giorni, io so che la tua volontà è quella di poter spacchettare il pacchetto Medimex. No, noi vorremmo tenere botta nei mesi fino al giugno dell'anno prossimo, quando si terrà il prossimo Medimex, quindi ci saranno iniziative, ma saranno iniziative di Puglia Sounds. Per il Medimex tu devi iniziare a lavorare un anno prima, perché quello che abbiamo fatto noi è un mezzo miracolo, cioè il Medimex, quel Medimex è stato costruito in tre mesi. Non oso immaginare che cosa si può fare in un anno. Le gratuite, i concerti, tutti i concerti gratis, è perché noi abbiamo deciso di rilanciare un progetto che era stato bloccato per motivi diversi per un anno, quindi abbiamo voluto promuovere, rilanciare Puglia Sounds e il Medimex, d'accordo con il presidente Emiliano. E fatto in tre mesi, vi garantisco che non è una cosa semplice, assolutamente, perché gli stessi artisti programmano a distanza di un anno dove andare, mentre noi abbiamo chiuso i G-Pop in un mese. Tanto per dire, insomma. Che ha maniato i G-Pop a Bari? Giusto per capire che cosa mangiano le star? No, voleva, chiedeva al ristorante con i frutti di mare e il pesce. Voleva quello, insomma. E sicuramente, voglio dire, è ancora più in forma, perché insomma lo stiamo vedendo da ieri, era a Monopoli, poi è stato beccato. È diventato barese doc. Diventato barese doc, gli piace moltissimo stare da noi, gli è piaciuto moltissimo, lui vive a Miami e quindi diciamo che ha trovato un clima da Florida proprio, perché noi non abbiamo nulla da invidiare alla Florida. L'avete portato a Torre Quetta, perché lì sembra un po' Miami, eh? Loro mi chiedeva l'assistente, non lui, mi chiedeva l'assistente e voleva andare a pane e pomodoro, infatti siamo stati noi a diri, guarda, ti conviene fare qualche chilometro in più, ma semplicemente per la privacy, non per altro. E allora, ti piacerebbe portare qualche altro nome qui a Bari? Eh, beh, figurati, è quando io ti dico che ho iniziato a pensarti. Diciamo il primo in cima alla lista dei desideri. No, 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 non mi fare esporre perché siamo appunto alle riflessioni. Io quello che posso dire è che il format sarà identico, spero in una relazione migliore con una parte degli operatori che vogliono incontrarmi, ma che io ho già visto e che hanno avuto un approccio critico. Quello che posso dirti, appunto, dicevo, è la cosa poi divertente, che ora amici e sconosciuti mi mandano Whatsapp, messaggi sui social, messaggi, sms, mi consigliano la line-up, i concerti, i gruppi che devono vedere almeno. E allora, si rifatti dai consigli, dai, e dalle critiche soprattutto, se sono costruttive. C'è qualcuno che prevale, c'è qualcuno che ha, e quindi io mi sono già fatto un'idea... Di come andrà a finire? No, di quello che è il gusto, di chi mi scrive. Ah, ok, va bene. E allora, io faccio un grande in bocca al lupo e auguro buon lavoro a Cesare Veronico, presidente di Puglia Sounds, e io spero che tu vada un po' a mare. Sì, sì, no, 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 ma ci vado proprio oggi, appena finisco il giro... Eh, così ti rilassi un po', il mare devi godertelo anche tu, oltre che G-pop, ovviamente. Grazie ancora a Cesare Veronico. Grazie Barbara e grazie a tutti i vostri radioascoltatori. Un attimo di pausa, ma torniamo tra pochissimo con gli appuntamenti di questa giornata.